ciao ciao a tutti da sunny flower red rose oggi un bellissimo video che parlerà dell'amore con la maiuscola saranno pensieri miei come la penso io sull'amore voi potete pensarla benissimo anche nella maniera opposta mi potete criticare non c'è problemi basta non avere denigrazioni vabbè le solite raccomandazioni però prima vi devo dire un'altra cosa importante allora tante le volte scusate se sentite perché sono sul letto e mi muovo quindi va bene allora mi avete fatto delle dei commenti particolari mi avete pronto lato perché io lascio alcuni commenti che magari ramettano qualche uno di voi prendendovi un po in giro a battute che dice leva quei commenti li dunque precisiamo una cosa signori e signore della giuria in tutti i canali delle personaggi saga io vedo lasciati dei commenti miei cioè dei commenti contro di me molto denigratori e nessuno li leva la come minimo c'è quella demente la che sta a firenze la demente di qua la la scema di la quella cessa e nessuno leva i miei commenti e io non dico più nulla ho detto no quindi se nessuno leva i miei commenti cioè i commenti su di me denigratori nessuno li leva nessuno anzi addirittura c'è chi gli mette il cuoricino ok non sto a dire chi non sto a dire chi mi fa questi commenti non sto a dire quale canale non sto a fare i nomi cercate di capire i quali canali sono insomma dei quelli dei personaggi saga di questo gruppo qui come al solito certo non è che vada a dire sul canale di don leonardo di qualche d'un altro ma nei canali quelli soliti quindi io perché devo levare dei commenti se vi prendano un pochino in giro se fanno due battute scherzosi ma di cosa stiamo parlando ragazzi perché io devo levare questi commenti qui mentre nessuno leva i commenti su di me denigratori nessun canale ditemelo voi allora o tutti ci mettiamo d'accordo tutti di questo gruppo ci leviamo i commenti denigratori di presa in giro di tutti di tutti tutto di tutti oppure ognuno leva i commenti che denigrano il proprio canale la propria persona e basta ognuno pensa per sé secondo me perché se si dovesse levare tutti i commenti di tutti tutti quanti non si finirebbe mai come si fa per cui secondo me il meglio è ognuno pensa per sé ognuno leva i commenti del suo canale quelli denigratori e della sua propria persona perché io perché devo fare la crocerossina e sopportare i commenti che mi fanno su di me denigratori negli altri canali quando io vi devo levare tutti i commenti se no poverine ve ne prendete a male o si levano tutti o non si leva nessuno giusto perché li devo levare solo io e voi lasciate i miei cioè quelli contro di me quindi io leverò solamente i commenti se bestemmiano dio quello sì se bestemmiano gesù se bestemmiano dio allora li levo quelli sì prima di tutto c'è il nostro signore quello sì che li levo e poi i commenti denigratori sul mio canale se dicano hanno un aumento di iscritti questo canale fa schifo io ve li levo perché se una persona nuova vede questi commenti qui è chiaro che poi scappa e poi per fare che mi dite se non me ne importa a me devo aumentare gli iscritti perché ve ne deve e voi dovete pensare al vostro canale io penso al mio quindi se mi fate questi commenti io è chiaro come in qualsiasi canale se fanno questi commenti è chiaro che uno li leva benissimo ritorniamo all'amore dunque cosa ne penso io qual è il vero amore innanzitutto scordatevi secondo me è un mio parere che l'amore sia solamente una scopata scopare subito una donna che la sia bellissima perfetta questo non è amore cioè se avete voglia di appunto di fare sesso con una donna e la sia una barbie finta allora siccome cioè voi cercate quelli che nell'ottocento cercavano le futtane che poi non erano neanche belle comunque si facevano il sesso facevano sesso con una donna anche diverse volte non è mica detto che uno facesse una però insomma cercavano questa donna solamente per sesso gliela davano subito la figa gliela davano scusate la parolaccia gliela davano subito e loro cercavano una puttana praticamente una donna a pagamento adesso ci sono le puttane gratis cioè le donne che la danno subito che fanno la stessa cosa che facevano le puttane nell'ottocento solamente in più sono anche gratis perché ce n'è tanti che tanto più sta da sole gli tocca purtroppo a volte a fare così però questo non è amore non lo chiamate amore chiamate tromba amica scopa amica non lo so neanche che nome gli date ma non chiamato l'amore per favore scordatevi dell'amore sia questo perché questo non è amore non andate a dire amo quella persona lì è la mia amorina è la mia topolina è la mia stellina perché quella non è la vostra stella è la vostra puttana perché quella non è amore quindi secondo me poi mi potete criticare sì 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 benissimo senza offendere che se voi offendete prendo e levo il vostro commento io vi avverto quindi criticare va bene allora se appunto prendete la donna in questa maniera questo non è assolutamente amore scordatevelo non dico di non farlo ma non lo chiamate amore allora l'amore innanzitutto è una donna che vi può anche criticare a me mi è piaciuto tantissimo l'altra volta un sacerdote della chiesa in cui ogni tanto vado che non è proprio della mia parrocchia però è sempre nel mio quartiere ed è un sacerdote polacco parla molto bene dice l'amore il vero amore anche quello con Dio insomma ma anche con uno l'amore l'amore è anche accettare le critiche è anche criticare e accettare le critiche perché una persona per esempio anche Dio no che critica perché l'amore l'amore vero deve veramente fare il paragone con l'amore verso Dio perché è il solito è il solito è sempre fatto dal cuore dal sentimento purissimo bello brillante come un cristallo per cui anche l'amore verso una donna se tu ami una donna devi anche accettare le sue critiche non denigrazione attenzione ma se ti critica in modo positivo per il tuo bene tipo guarda ma qui stai sbagliando io ti amo però qui tu sei troppo fa un esempio sei troppo pessimista oppure non lo so datti più da fare oppure non lo so che cosa scusate eh ma se uno vi critica in modo positivo per aiutarvi quello è vero amore perché l'amore vero non è come tu sei buono come tu sei bello come tu sei bravo l'amore vero è dire come te non c'è nessuno quello sì no quella bellissima canzone come te non c'è nessuno sei unico al mondo la 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 e quello sì quella è una frase che bisognerebbe dire no io sto con te tanto più sta da solo da sola perché allora allora e non è certo amore anche quello se una donna vale l'altro una figa vale l'altra un uomo vale l'altro tanto per un costumino bello vale l'altro allora niente quello non è certo amore per cui la frase come te non c'è nessuno quello sì è bellissimo tu sei una cosa grande no è una delle canzoni più belle d'amore che abbiano fatto tu sei una cosa grande per me ma tu non tutte se a tutte voi dite la stessa cosa non è amore tanto per non stare da soli ma con questo per me potete anche stare per non stare da soli eh io dico però non l'ho chiamata amore cioè lo chiamate tanto per non stare da soli poi potete fare che vi pare eh per carità per cui tu sei una cosa grande sì deve essere però tu sei una cosa grande però se vedo che fai delle cose esagerate io posso anche criticarti capito oppure tu sei una cosa grande però se tu mi critichi tu sei una cosa grande lo stesso no cioè dovete anche accettare le critiche perché chi vi ama è una cosa grande però può anche farvi delle critiche così come vostra madre vostra sorella se vi ama vostra zia la vostra professoressa un voglio dire però nel senso se una persona vi vuole bene vuole il vostro bene vi critica e va benissimo come disse il sacerdote l'altra volta se poi ho una denigrazione un dire te fai schifo fa nullona oppure puttana oppure tu va con tutti coscenate varie allora no quello non è certo una critica buona capito però una critica sana è perché vi vuole bene vuole che voi migliorate allora però scordate le persone cambino perché tante ragazze si innamorano dei ragazzi sperando che cambino è un pochino violento è un pochino fumantino cambierà no 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 si può modificare il carattere si può fare il punto per amore ma non cambia eh no 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 se uno fa nullone di suo rimane se uno è fumantino rimane se uno è geloso se uno è indifferente se uno è di poche parole rimane eh c'è nulla da fare cioè come quelli che poi si fanno picchiare sperando eh ma credevo che il mio ragazzo cambiasse speravo no non si deve fare le croce rossine questo parecchio nelle ragazze eh non si deve fare le croce rossine perché una persona non cambia però la puoi criticare e se lui accetta le critiche migliorerà ma non cambia il carattere è quello dovete accettarlo per quel carattere lì se non vi piace passate oltre tu sei una cosa grande vuol dire io ti accetto anche se non sei bellissima anche se non hai il carattere poi che vuol dire il carattere perfetto cioè io sono vissuta ogni mia madre eccetera e diceva ma il carattere ma il carattere che cos'è il carattere perfetto io certo non ho un carattere ma qual è il carattere perfetto signori qual è il carattere perfetto per cui dovete sì criticare accettare le critiche che uno può migliorare il proprio carattere ma non si può cambiarlo definitivamente così come uno può migliorare l'aspetto fisico truccarsi meglio per esempio a me secondo me l'amore vero è uno che sa anche dirti questa gonna ti sta bene quell'altra non ti sta bene cioè io odio le persone cioè odio io non sopporto le persone indifferenti che io gli chiedo ma come sto con questo paio di pantaloni a me boh tu fai che tu vuoi compratelo cioè ora non sto a dire chi però non mi piaceva questo atteggiamento perché a me mi piace tantissimo se una persona mi dà dei consigli specie appunto nel vestire ma non che devano essere denigrazioni perché voi esagerate se sei un cesso sempre allora ma se mi dite ha visto ho cercato anche di migliorare se mi dite non so con un colore dei capelli un po' più vivaci per esempio ora me li sono fatti un po' sul rosso stai meglio allora io lo farei per il mio grande amore oppure con quella gonna stai meglio stai meglio con i tacchi oppure senza oppure cioè io non sono di quelle donne per esempio che dicano io mi vesto come mi pare quello sì però se tu se tu ci tieni a quel grande amore che lo ami e lo vedi una cosa tu sei una cosa grande lo vedi e lui ti dice per favore ti vuoi mettere questo rossetto che dà sul rosa che mi sembra che ti stia meglio mi piace tanto mi arrapi in questa maniera faccio un esempio scusate allora io lo farei cioè poi magari tutti sti rossetti rosa da tutte le parti cioè magari si esagera magari poi arriverà un giorno che dirà che palle ma mettitelo rosa cioè fa un esempio però cioè ora si va sull'eccesso però per dire che se una persona gli piace si arrapa con il vostro amore dico io eh questo vale anche per le donne insomma se la vostra lei vi dice per favore ti mette quel costume da bagno che stai d'incanto ti metti quella camicina che mi fai rappare o quella collanina o quell'orologio ma no che costi tanto eh cioè se deve costare di molto se la vi comincia a dire voglio tutti i vestiti di marca allora qualcosa c'è che non va ma se dice guarda stai benissimo di celeste oppure stai benissimo di blu o stai benissimo di nero cioè io non vedo perché non accettarlo capito cioè poi se magari la vi comanda sempre fai qui fa là fai sotto fai sopra allora no si va sull'eccesso allora no però vuol dire che il carattere di essere una comandina ci sono anche tante donne fanno le comandine cioè e si ritorna lì dovete prendere tutto il pacchetto perché l'amore è una bellissima rosa ma la rosa ha le sue spine capito e si ritorna lì qualsiasi cosa bella c'ha sempre però anche il sonato negativo l'amore ecco se voi intendete amore tutto rose cuoricini fru fru ciusciu pucciosi come cavolo vi fare sole mare amore non c'è solo il sole il mare l'amore c'è anche il dolore che fa rima solo tre parole sole male amore io ne metterò quattro sole mare amore ci stanno d'incanto ma c'è anche dolore sole mare amore dolore purtroppo è così perché il vero amore vuol dire anche sacrificarsi sapere una strada bella se vuoi andare nella terra promessa in un posto bellissimo l'amore è come la terra promessa è un posto bellissimo un posto dove stai bene dove ti si allarga il cuore dove senti calore nel cuore giusto quel calore scusate però quella strada è piena di inciampi purtroppo sì volete la terra la vostra figa promessa insomma diciamo così la vostra donna promessa la vostra ragazza promessa o anche l'uomo il vostro figo promesso però è una strada da percorrere prima piena di spine piena di inciampi cioè l'amore non esiste che sia solo sole mare amore perché anche nel sole se tu ci sta troppo il sole tu ti bruci io una volta estette il sole dalla mattina alla sera a un posto bellissimo lì in Toscana da me mi sembra nella spiaggia di Rimigliano adoro la spiaggia di Rimigliano andate a vederla perché è stupenda perché è spiaggia libera cioè prima c'è tutta la io andavo sempre al numero 7 se venite in Toscana andate alla spiaggia di Rimigliano andate al bagno non era un bagno era il numero 7 c'era prima la finita e poi a me piaceva tantissimo quel percorso è come un amato è come quella spiaggia lì che ai primi soli si andava dalla mattina alla sera e prima si andava verso la finita e poi quando intravedevo da lontano l'azzurro del mare cioè era una cosa stupenda correvo contenta e non c'era nessuno perché era una spiaggia libera era qualcosa di meraviglioso però anche lì c'erano le sue pecche perché quando stavo tanto al sole poi una volta diventai completamente rossa e la volta dove mi toccò addocciarmi subito tornata a casa un bruciore veramente per farvi capire che tutte le cose amate hanno sempre il loro sacrificio anche per Dio no? l'amore verso Dio verso Gesù che vi darà il paradiso però quanti ostacoli eh ecco quindi l'amore vero bisogna sempre paragonare l'amore per una donna con l'amore di Gesù cioè io lo paragonerò sempre che poi è ancora più grande l'amore verso Gesù e verso Dio questo è chiaro quello è l'amore numero uno e poi c'è l'amore verso un uomo e verso una donna guardate che il vero amore signori per dire ti amo bisognerà perché ora si abusa di questa parola si abusa tantissimo ma la cioè il vero amore signori e bisogna fare tanti sacrifici e non vi venite a lamentare la mia ragazza mi ha chiesto questo il mio uomo mi ha chiesto quell'altro cioè l'unica cosa che vi do ragione è se uno ha l'amante se uno ha l'amante allora quello non è amore quello non è amore se una ragazza preferisce le amiche e vi trascura quello non è amore se una persona è in un giro brutto e preferisce fare quel giro e vi mette in un giro brutto vi mette in pericolo quello non è amore signori l'amore è uscire dal giro non farvi entrare ora dico se sei in un giro di droga un giro di di persone non tanto per bene quindi attenzione alla ragazza o al ragazzo che ha un certo giro che vi vuole fare entrare perché anche quello a me non mi pare perché il vero amore dovete stare tu e lei tu e lui capito se vuole andare di molto in qua e là secondo me non fa bene ok e poi vabbè se c'ha l'amante quello proprio non è ammissibile si può perdonare sì però va via un po' la fiducia io non lo so certo allora per quanto riguarda la gelosia io direi una via di mezzo a me piacerebbe io non ho mai avuto l'uomo geloso e mi piacerebbe tantissimo avere l'uomo geloso proprio perché l'indifferenza è terribile certo mica che che non ti fa fare niente quello c'è una via di mezzo che c'entra quelli gelosi e poi ammazzano quelli non sono normali quella è una gelosia malata cioè questo è chiaro però un po' di gelosia secondo me è normale cioè se ritorna lì certo non in un modo esagerato ma neanche in un modo indifferente cioè ti ha accompagnato quello lì e che se ne frega chi è hai parlato tanto con quella persona e che se ne frega vai senza il sopra al mare e che se ne frega se ti guardano cioè sinceramente quando uno dice sempre ma chi se ne frega a me non mi pare di molto amore a questo punto a me tu puoi andare anche senza guarda che lo faccio fallo allora allora te ne importa poi nulla di me poi si vede infatti uno come va a finire perché io li ho trovati degli uomini un po' indifferenti che diceva bene non sono geloso è una cosa positiva ma si va a esagerare se uno non gliene importa nulla se vai senza col seno per esempio io quei ragazzi che mandano le ragazze l'ho visti ragazzi giovani specie che mandano le proprie ragazze senza regge seno come fosse un trionfo davanti a tutti per me non è amore quello eh non è amore ma scusa ma la fai vedere davanti a cani e porci che poi c'è 60 anni maiali che ci fanno un pensierino magari la ragazza ha 20 anni ne ha 18 e sono anche mezzi pedofili cioè ma abbia un minimo di ritenio di mettiti i bikini ma anche quelli scusate eh quelle ragazze che fanno i selfie e vanno su facebook e c'hanno il ragazzo il mio raga il mio amore sono innamorata scoricini pim 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 pam va bene posta la foto con il ragazzo poi dopo la si vede col culo fuori cioè con i bikini succinto e la si vede farsi la foto con un'amica magari e poi tu ti rimetta like no? cioè voglio dire ma come tu c'hai il ragazzo e tu ti fai tutte quelle foto parecchio sexy su facebook o su instagram o su un altro social che tu sai che ti vedano anche i cane forci cioè ma un minimo di rispetto per il ragazzo cioè io cioè quindi c'è una via di mezzo anche quelli ragazzi che gli fanno fare tutto alle ragazze non mi sembra amore quello mi sembra che portano il trionfo guarda che bella Barbie che c'ho cioè io non lo so se una ragazza è bellissima ed è un misto perché l'ho visto cioè delle ragazze sono un misto della Barbie e della Belen Rodriguez è qualcosa di stupendo ma c'hanno i ragazzi e poi si mettano a non faccio nomi per carità ma ci sono poi si mettano un po' col bichini un po' sexy per far per perché gli mettino 200 like cioè voglio dire ma io non è un ragazzo contento perché così c'ha più di 200 like io non lo so ma un minimo di ritegno c'ha il tuo ragazzo e ti fa vedere da tutti così ma fatti una foto in bichini sexy solo per il tuo lui giusto? io non lo so se poi uno è sola come un cane allora fai che vuole ma ragazzi ma ne è la stessa cioè tante ragazze sembrano che siano sole ho tanti ragazzi io voglio fare che mi pare mi voglio fare le bevute agli amici oppure tanti uomini io mi metto lì spiaggiato stravaccato ma scusate ma non è come essere da soli quando ci sa un padre bisogna cambiare cioè migliorarsi bisogna no cambiare che uno non cambia ma bisogna darsi da fare bisogna darsi da fare in tutto e per tutto darvi il meglio infatti io per esempio adesso non ho tanta voglia di cercare perché non ho un lavoro adesso ho voglia di sistemarmi un po' fisicamente quello sì ma per i video e poi appunto per trovare però ora non avendo un lavoro sinceramente non so che cosa cavolo posso trovare perché così come le donne giustamente devono pretendere l'uomo che lavori e che guadagni anche gli uomini ora pretendano una ragazza o una donna che lavori io non lavorando sinceramente non so che cavolo posso trovare e poi sai io non è che ho tante pretese del vero amore nel senso ormai sai alla nostra età però tutto può io comunque il mio motto è dire mai non dire mai si starà a vedere comunque io per ora sono senza amore sono così mi sento perché quella prossima volta parleremo di libertà e vediamo cos'è la vera parola libertà per ora io sono un cavallo bianco che corre nella spiaggia perché il sinonimo è una parola libertà un cavallo bianco che corre sulla spiaggia ed è la figura più bella per esprimere la parola libertà secondo me per raffigurarmi via la parola libertà va bene io adesso sono libera con il cuore sì cari sono libera per ora le amicizie ne ho poche non certo su youtube l'ho fuori youtube su youtube mi avete tirato calci in faccia che vi ho chiesto la vostra amicizia comunque non importa tanti mi hanno tirato calci in faccia ce l'ho fuori youtube due grandissimi amici volendo anche tre volendo ma due sono stupendi li saluto e comunque ciao 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 ciao